A Battipaglia sono in corso le domande inerenti agli assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per maternità per i figli nati dopo il 1 gennaio 2018. Per l'assegno inerente ai tre figli il nucleo familiare deve essere composto da cittadini residenti nel comune di Battipaglia in cui siano presenti nella famiglia anagrafica almeno tre figli minorenni. La scadenza della presentazione della domanda per l'anno 2018 è stata fissata per il 31 gennaio 2019. Per quanto riguarda l'assegno della maternità l'istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla data del parto o del provvedimento di adozione o affidamento. Le domande vanno presentate all'ufficio protocollo generale del comune di Battipaglia situato in piazza Aldomoro.